Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e finalmente, finalmente, su questo canale arriva la recensione del film evento per questo canale, ovvero, lo state leggendo dal titolo, Godzilla vs Kong, film di cui ho già registrato delle impressioni a caldo che potete trovare sul mio canale, ne parlerò sabato 15 maggio in live, sempre sul mio canale, alle 21, nella live che io ho ribattezzato Teste di Kaiju, dove ci saremo io e altri appassionati di Godzilla e in generale di Mostroni Giganti, e commenteremo appunto quello che è stato questo film, in quel caso tutto spoiler, qui ci saranno le solite due parti senza icon, lì invece spoiler, 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 quindi se non avete visto il film non seguite quella live e seguite solo la prima parte di questo video, ma a parte questo appunto procediamo finalmente a parlare di questo film, Godzilla vs Kong, film del 2021, quarto capitolo del MonsterVerse, universo condiviso incentrato appunto sui Mostroni Giganti, sui Kaiju, o meglio, sulle versioni americane e occidentali dei Kaiju, ovvero dei mostri giapponesi, anche se comunque in questo universo oltre a grandi icone del Giappone come Godzilla, Mothra e Rodan, appare anche Kong, che appunto è anche uno dei due protagonisti di questo film, e in cui tra l'altro, come ho sempre detto, si genera un cortocircuito meraviglioso perché questo Kong è la rielaborazione americana del Kong giapponese, che a sua volta era appunto la rielaborazione giapponese del King Kong originale che era americano, quindi gli americani hanno rielaborato una rielaborazione giapponese di un loro mostro, si è bellissimo. A parte questo comunque, come suggerisce il titolo, qui abbiamo un Versus, abbiamo il primo vero crossover del MonsterVerse perché è vero nel capitolo precedente, Godzilla 2 King of the Monsters, avevamo visto appunto Mothra, Rodan e altri famosi Kaiju che però hanno stati introdotti direttamente lì senza aver avuto un film tutto l'ora e poi facendoli scontrare con Godzilla, come invece è avvenuto appunto in Giappone ai tempi degli anni 60, quando questi personaggi, 50-60, quando questi personaggi vennero creati. A parte questo comunque alla regia del film troviamo Adam Wingard, confermando tra l'altro quella che è la tendenza del MonsterVerse, ovvero ogni film un regista diverso. Per il Godzilla del 2014 che aveva dato inizio a tutto, Garrett Edwards che è proprio il direttore O'Guan, per Conskall Island Jordan Von Roberts, regista che adesso si sta occupando di una trasposizione videolurdica a lungo attesa dai fan che chissà se riuscirà mai effettivamente a vedere la luce. Per Godzilla 2 King of the Monsters abbiamo avuto Michael Dautry, ovvero il regista di Trick or Treat, la vendetta di Halloween e Krampus non è sempre Natale, Natale non è sempre Natale, scusate. E qui invece abbiamo appunto Adam Wingard, regista che era diventato famigerato soprattutto presso gli amanti del Giappone perché aveva diretto per Netflix il film di Death Note, film che io non ho visto, non ho neanche letto il manga né visto l'anime, però è riconosciuto all'unanimità come un film al di là del poco fedele alla fonte originale ma soprattutto proprio brutto a prescindere dalla fedeltà o meno. Io quel film non l'ho visto però ho visto qualche altro suo lavoro tra cui Blair Witch, il seguito del Blair Witch Project, film che è una certa fetta di pubblico odia ma che in realtà trovo un horror molto ben diretto, che mi faceva pensare che Adam Wingard in realtà avesse un buon occhio registico, ma a parte questo parliamo della trama. Sono passati tre anni da Godzilla 2 e King of the Monsters, appunto il precedente film del Monsterverse che si era chiuso con Godzilla che aveva sconfitto il suo mortale nemico King Idola e si era guadagnato il titolo di Alpha, di Rei dei Titani o Rei dei Mostri come appunto suggeriva il titolo del film. Tutto per ora sembra andare bene perché comunque Godzilla o ucciso o comunque sconfitto e diciamo mandato a nanna tutti i titani che minacciavano l'umanità e quindi tutto sembra andare per il meglio se non fosse che a un certo punto si verifica l'attacco di un titano. Cioè Godzilla stesso, il quale inspiegabilmente attacca una base dell'Apex, una organizzazione, cioè un'azienda specializzata in prodotti ipertecnologici che si è sempre dichiarata a favore dell'umanità, Godzilla arriva lì e fa un macello senza apparente spiegazione, cosa che getta nel panico tutto il mondo perché dicevano cavolo questo doveva essere il titano che teneva tutti a bada, adesso la minaccia è diventata lui? Siamo veramente nei casini e parallelamente seguiamo la vicenda appunto di Kong, gigantesco scimmione che viveva a Skull Island che però scopriamo all'inizio film essere stata spazzata via da un qualche evento catastrofico, ora Kong è tenuto al sicuro da un'organizzazione che non sembra essere però effettivamente la monaca, non si capisce bene, cioè lo è però, la monaca non risalta particolarmente, comunque lo sta tenendo sotto controllo e non vogliono rischiare che Godzilla lo trovi perché anche Kong è un titano alfa ma ci può essere un solo alfa e quindi Godzilla diciamo che non vede Kong di buon occhio a prescindere, non che Kong sia istintivamente propenso a voler bene a Godzilla, insomma i due, le due specie sono nemici naturali, tuttavia a un certo punto si è costretti a far uscire Kong dalla sua zona sicura per un motivo, si è scoperto che nella terra cava ovvero appunto nell'ecosistema sotterraneo che c'è nel nostro pianeta che è la dimora originaria dei titani, esiste una fonte di energia che potrebbe aiutare la terra creando appunto, cioè con una pietruzza così può illuminare più di una città con l'energia di più di una Las Vegas e quindi insomma bisogna andare nella terra cava, peccato che numero uno lì la gravità funziona in un modo un po' strano e quindi i mezzi per andare giù non sono molto affidabili e in secondo luogo bisogna trovare qualcuno che guidi effettivamente l'espedizione verso la fonte di energia perché non sanno dove trovarla nella terra cava. La Apex pensa a rimediare al problema dei mezzi perché fornisce delle nuove strutture ipertecnologiche che possono risolvere i problemi della gravità ma per trovare il cuore della fonte serve qualcuno che possa portarle lì e Kong sembra la creatura più adatta perché sebbene non ci sia mai stato dovrebbe essere istintivamente propenso ad andare lì un po' come i salmoni che vanno controcorrente perché istintivamente sanno che devono andare lì a riprodursi e quindi appunto Kong viene fatto uscire dalla sua zona sicura e ovviamente questo lo porterà a scontrarsi in più di un'occasione con Godzilla. Nel frattempo seguiamo oltre alla spedizione che sta appunto cercando di aiutare Kong seguiamo anche Madison Russell che già avevamo visto in Godzilla 2 che cerca di capire cosa abbia spinto Godzilla a diventare cattivo e ad aiutarla ci saranno due persone estremamente normali e per nulla stereotipate ovvero Josh Valentine che siccome non mi ricordo il nome lo sto leggendo d'ora in poi chiamerò il nerd stereotipato perché è un nerd stereotipato e poi c'è Bernie Aves che io d'ora in poi chiamerò il complottista perché è un complottista della malora che però nonostante abbia creda mille teorie idiote complottare tra rettiliani e altro è effettivamente convinto che ci sia qualcosa sotto la cattiveria inspiegabile di Godzilla e quindi aiuterà Madison e il nerd stereotipato appunto a cercare di risolvere appunto il mistero. Ora il film è uscito negli Stati Uniti il 31 marzo in contemporanea nelle sale almeno in quelle che avevano riaperto e su HBO Max la piattaforma streaming della Warner Bros che qui in Italia non è arrivata e non è ben chiaro se arriverà ma penso che prima o poi succederà nel resto del mondo ci sono si è cercato dove possibile di farlo uscire al cinema ma in Italia non so se magari solo qui o magari anche in altre parti del mondo però in Italia è stato fatto uscire in esclusiva digitale prima non lo si è fatto uscire il 31 e si è rimandato probabilmente nella speranza che i cinema riaprissero poi un mesetto fa hanno detto no esclusiva digitale che ha fatto pensare a quindi cinema non riaprono fino a maggio perché altrimenti il film sarebbe uscito al cinema invece i cinema hanno iniziato a riaprire il 26 aprile e i multisala non stanno riaprendo perché non hanno un titolo forte da proporre e quel titolo poteva essere proprio Godzilla vs Kong quindi la Warner Bros Italia veramente ha fatto un bordello perché un film che tra l'altro sta avendo un buon successo nel resto del mondo considerando soprattutto che siamo in epoca pandemia da altre parti al cinema noi poveri stronzi non ce lo stiamo godendo nelle sale si spera che cambi l'idea anche se io ho paura che il motivo per cui si sono notato sul fatto che sia in esclusiva digitale che questi erano talmente convinti che i cinema non riaprivano a maggio che hanno proprio firmato il contratto con su esclusiva digitale quindi anche volendo non possiamo cambiare idea io ho questa paura spererei di essere smentito ma mi sto cagando sotto per sta cosa ma a parte questo il film appunto nel resto del mondo sta riscuotendo un buon successo è vicino al mezzo miliardo che se pensate che siamo in tempo di pandemia è tanto e oltretutto Godzilla 2 era stato un floppettone allucinante ed è stato dichiarato che se Godzilla vs Kong non fosse già stato in produzione quando è uscito Godzilla 2 non l'avrebbero fatto quindi è pure andata di culo al MonsterVerse che è riuscito almeno a fare un crossover concretizzandosi quindi ufficialmente come universo condiviso perché prima si può essere sulla carta però finché non c'è lo scontro la condivisione dell'universo si sente fino a un certo punto e tra l'altro ha avuto anche un buon successo di critica anche un buon apprezzamento da parte del pubblico allora cosa c'è da dire sul film a livello tematico è abbastanza coerente bisogna dirlo con quello che è sempre stato il MonsterVerse perché fin dai trailer noi vedevamo che Kong aveva un legame con Gia questa bambina che tra l'altro subito inizio film ci viene rivelato essere sordomuta e appunto Kong riesce a comunicare a affidarsi ad avere un rapporto di fiducia solo appunto con questa bambina e questa cosa è molto interessante perché intanto viene fatto un parallelismo sul fatto che tanto la bambina quanto Kong siano orfani e quindi si ritorna sul tema del fatto che in un mondo di dei di titani di mostri distruttivi si cerchi tantissimo un senso di appartenenza cioè il piccolo umano in questo mondo gigante e pieno di distruzione cerca l'affetto dei propri cari in tutti i film del MonsterVerse abbiamo famiglie spezzate che si vogliono riunire un qualche or un qualche genitore che cerca il figlio un qualche orfano in cerca di legami come in questo caso ed è anche bello qui che venga veramente reso esplicito come appunto Kong sia orfano sia l'ultimo della sua specie quindi in chi si ritrova in un altro orfano come lui ed è molto bello anche che sia una bambina perché non solo abbiamo il gigante che ora tra l'altro è invecchiato perché ora Kong ha la barbetta si vede che in laco gli anni rispetto a Kong Skull Island è aumentato 50 anni prima in cui comunque era ancora un giovane adulto e oltre appunto ad essere carina questa cosa c'è anche il fatto che appunto il gigante anziano ha un legame con una con un essere che già appartiene una specie minuscola rispetto a lui ma è anche una bambina quindi è persino piccola rispetto anche solo di statura rispetto agli altri membri a molti altri membri della sua specie e poi mi piace che alla fin fine abbiamo la piccola Gia che è team Kong e Madison che è team Godzilla e quindi abbiamo appunto due ragazzine anzi una bambina e una ragazzina due giovani che sono sembrano essere le uniche ad avere un legame col mostro nel caso di Gia o comunque affidarsi del mostro nel caso di Madison che in fondo è vero chi è affascinato dai mostri giganti i bambini alla fin fine l'affascinazione per queste creature la impariamo da bambini cioè io sono affascinato perché da bambino ho visto il Godzilla di Emmerich che al giorno d'oggi mi rendo conto sia quello che era però quando avevo sette anni e vedevo sto dinosaurone che andava in giro per New York per me era bellissimo non vedo l'ora quindi il fatto che cioè è anche un bel messaggio innanzitutto con le nuove generazioni che devono rimediare magari ai errori delle vecchie ma anche appunto l'idea che alla fin fine chi può apprezzare questo tipo di creature se non appunto i bambini con il loro sguardo più più ingenuo e proprio per questo paradossalmente a volte più saggio in grado di vedere cose che i cinici adulti non vedono ma al di là appunto della questione tematica che è interessante poi anche qui viene viene accennato come sempre alla questione dell'uomo che vuole controllare la natura della contraposizione tra i pochi esseri umani che capiscono i mostri e in generale quindi la natura e il gruppo più vasto che pensa che vadano controllati sfruttati distrutti eccetera queste cose ritorno sempre comunque a parte questo come questo film a livello di sceneggiatura è abbastanza un pianto c'è poco da fare c'è chi dice no non è vero trama semplice ma efficace bla 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 ok la trama in sé non è complicatissima è un film in questo senso comunque meno ambizioso rispetto anche solo a livello di sceneggiatura intendo anche solo a un Godzilla 2 che voleva mettere sul tavolo molte più cose il perdono verso chi ti ha fatto del male con il personaggio col padre di Madison che deve perdonare Godzilla perché gli ha ammazzato uno dei figli anche se involontariamente perché stava solo lottando contro i muto c'era poi la questione tutta della sovrappopolazione i titani che ristabiliscono l'equilibrio e pipira pipira insomma un sacco di robe questo è un film un po più asciutto in questo senso ma al di là di quello proprio c'è la sceneggiatura a livello proprio di cose che succedono è pieno di ingenuità stronzatine robe che non tornano allora innanzitutto il film fa un po quello che per me è lo sbaglio di x-men giorno di un futuro passato film che io adoro uno dei miei preferiti degli x-men e comunque molto superiore a livello di sceneggiatura a questo però una cosa che a me non ha mai andata giù di quel film forse una delle pochissime sono l'unica era che x-men inizia aveva presentato tutta una serie di personaggi che poi nel secondo non comparivano e venivano liquidati con ah sì sono morti off screen negli anni che sono passati tra il primo e il secondo bene mi fa molto piacere e qui similmente un sacco di spunti e personaggi che avevamo visto in godzilla 2 qui vengono o notevolmente ridimensionati l'ho anticipato prima qui la monarch è quasi assente brava la monarch ormai l'organizzazione più portata del mondo qui parlano tutti dell'apex la mona organizzazione sbucata fuori tra l'altro a caso mentre la monarch chi ne sente più parlare la nominano due volte in tutto il film tipo tu sei lì ma che cazzo comunque quello lì appunto personaggio ridimensionato anche appunto il signor russell il signor russell conferma quella che è una tendenza del monster che non mi fa impazzire ovvero prima godzilla di edwards il massimo espertone di godzilla era serizawa proprio lui era l'autorità massima ma in godzilla 2 serizawa ancora esperto per carità però deve ricevere dei consigli appunto da rasse che è in grado di capire meglio di tutti il comportamento di godzilla meglio di serizawa che lo studia da anni e lo che addirittura fino a considerarlo un amico c'è qualcosa che non va e anche qui invece rasse che l'ha diventato no il nuovo leader della monarch successore spirituale non solo di serizawa adesso improvvisamente personaggio di sfondo e via ma che succede perché c'è questa tendenza a mettere il personaggio importante poi nel film dopo lo metti da parte e che cazzo mi dispiace ma questa cosa non va molto giù sinceramente ma non è solo quello però vabbè non voglio adentrarmi più di tanto nel dettaglio però insomma il legame col film precedente c'è però non poteva essere un po più solido sinceramente oltretutto il film precedente finiva che ti stavano accenando a una certa cosa che doveva succedere qui ti dicono che la cosa è successa ma non ti viene minimamente mostrata neanche in un flashback né nulla e no questa cosa non mi va bene nemmeno questa quindi no insomma ci sono veramente un po di cose che non tornano appunto a livello di continuità del monsterverse ma tralasciando quello e basandoci solo su questo film mio dio cioè a un certo punto ci sono dei personaggi che dicono dobbiamo infiltrarci in mezzo ai cattivi e si infiltrano con una facilità estrema non c'è una cosa di sicurezza già e godzilla 2 iniziava con i cattivi che simulavano il rapimento di madison e di sua madre perché dovevano infiltrarsi nella monarch perché la monarch è ben protetta qui invece abbiamo appunto i buoni che si infiltrano tra i cattivoli di turno senza che ci sia la benché minima difficoltà i personaggi umani poi veramente sono caratterizzati con lo sputo non che non che siano mai stati particolarmente caratterizzati nel monsterverse salvo giusto due o tre eccezioni ma qui veramente siamo dei minimi storici e la cosa la noti soprattutto quando c'è un certo personaggio che in base a una certa cosa che senti dici fermi questo vuol dire che 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 personaggio perché insomma c'è una certa implicazione e dici minghia questa è un'implicazione importante verrà sviluppata personaggio liquidato con tre quattro frasi are you serious? certo profic è stato rimandato rimaneggiato quindi bisogna anche capire quante delle boiate che vediamo sono colpa proprio degli sceneggiatori o della produzione stessa però ragazzi al di là di questo io non posso var'altro che dire che veramente questa è una sceneggiatura veramente brutta non è tremenda per cioè nel senso non è la cosa peggiore del mondo come può dire qualcuno perché comunque per dire almeno stiamo parlando di un monster movie in cui al centro di tutto dei discorsi dei personaggi eccetera ci sono sempre i mostri non come una certa pentalogia che dovrebbe avere al centro i robot e poi in realtà a sceneggiatori e registi sembra interessare di più parlare di militari e bambole di silicone che si spacciano per donne e inoltre sembra comunque una sceneggiatura consapevole della propria stupidità nel senso che comunque non ha grandissimi ambizioni non è una sceneggiatura stupida che pretende di essere intelligente sono abbastanza sembrano abbastanza coscienti del fatto che stiano facendo un film che non ha alcuna pretesa se non intrattenere però anche in quest'ottica ragazzi non è che pretendessi una sceneggiatura la shing o zilla complessa politica stratificata e tutto però minchia un minimo di impegno un minimino in più non è che ci sarebbe stato male la butto lì tuttavia io dico sempre una brutta sceneggiatura può essere salvata da una regia buona se non addirittura ottima magari wingard visto che io sono uno che ritiene che wingard abbia un buon occhio magari wingard riesce effettivamente con una buona regia a portarsi il risultato a casa a creare un film che risulti divertente nonostante le mille e mille stronzate e io tutto quello che posso dire che c'è riuscito alla grande cavolo ok è un film stupido a livello di scrittura si è innegabile ripeto chi mi dice che è scritto bene che cazzo di film hai visto fallo vedere anche a me però ragazzi qui ad un wingard veramente sembra che ad un wingard abbia pensato ok sta sceneggiatura fa cagare la render ci penso io a renderla figa e ci riesce perché ok allora quando provano a fare i momenti umoristici non è che funzioni tanto i momenti invece più intimi un po più seri secondo me funzionano molto meglio soprattutto le interazioni appunto tra la piccola gia e kong sono veramente tenerissimi e mi hanno fatto battere un po il cuoricino quindi lì veramente bravi e che dire ci sono un paio di scene che se ci pensi sono stupide a livello di sceneggiatura sempre ma sono messe in scena in un modo ad esempio a un certo punto si scopre una cosa su kong che se ci pensi a livello logico se lì che dici ma cosa quando è successo che però il modo in cui viene messo in scena anche a livello di musica di espressività degli attori di scelta dell'inquadratura e anche di fotografia è talmente figo che io li provo i brividi nonostante razionalmente mi rendessi conto che era una boiata e questo film è pieno di scene di questo tipo e in particolare ragazzi i combattimenti migliori scene di combattimento del monsterverse per quel che mi riguarda per carità si è persa la raffina si è persa del tutto la raffinatezza e il tono epico e solenne che ci aveva regalato edwards con il suo godzilla che per me rimane il miglior film del monsterverse a livello soprattutto di regia ma anche a livello di sceneggiatura comunque era una sceneggiatura con qualche problemino anche lì però sicuramente meglio di questa però comunque insomma a quella raffinatezza bellissima non torneremo mai più e una parte di me in realtà è paradossalmente contenta perché questo contribuisce a rendere il godzilla di edwards veramente un film unico sia nel monsterverse che in generale nei blockbuster quindi paradossalmente il fatto che edwards non sia cioè la poetica di edwards è stata abbandonata è un valore aggiunto alla poetica stessa sotto alcuni aspetti appunto wingard non è edwards però cavolo qui nell'ottica di blockbuster cacciarone e divertito è fantastico le sequenze di lotta ripeto sono spettacolari le botte da orbi si sentono tutti nonostante i movimenti siano molto veloci io mi fossi lamentato di questa cosa in godzilla 2 qui non l'ho trovato fastidioso e secondo me ciò è dovuto soprattutto ad un'ottima scelta le inquadrature sono molto più pulite perché in godzilla 2 qual era il problema combattimenti quasi sempre di notte o comunque quando e c'è la pioggia e c'è la nuvola e c'è la nube di fumo che per carità questa cosa c'era anche nel godzilla di edwards ma lì col fatto che i mostri fossero più lenti e solenni ti godevi molto di più l'inquadratura nel momento in cui fai una cosa come godzilla 2 che un po vuole essere solenne un po invece vuole essere cacciarona non solo le due cose stridono ma proprio l'inquadratura appare sporca troppo piena di dettagli che sono appunto la pioggia eccetera qui invece gli scontri sono quasi tutti di giorno tranne uno di cui si vede un pezzettino anche nel trailer che è di notte a hong kong dove però la luminosità è garantita dal dalle mille mila luci dal mille mila neon della della città quindi comunque l'azione risulta chiarissima e pulita senza appunto pioggia ombre robe varie a sporcare l'inquadratura e quindi tu ti godi ti godi appieno i mostri i mostri li vedi bene appunto un po di spiaggia che si sia perso il gioco di nasconderli tra nubi varie però nel momento in cui tu abbandoni la raffinatezza diventi cacciarona al cento per cento pulisci l'inquadratura da queste cose e lo spettacolo è garantito effetti visivi ottimi anche se nelle parti in primissimo piano in cui si vedono le parti non pelose di kong quindi la faccia e le mani ho leggermente riscontrato che fosse finito ma nulla di grave per il resto veramente effetti straordinari la regia ha anche una certa inventiva c'è ad esempio piena di momenti in cui ci sono queste soggettive comunque queste inquadrature che sembrano che la macchina ripresa sia montata su un otto volante è un film molto molto luna park come struttura e ci sta la fin fine questo è proprio un film cioè i fini mostri possono essere profondi ce l'hanno dimostrato appunto shin gozilla l'originale gozilla del 54 altri film dalla saga alcuni magari anche un po più cacciaroneschi però questo non voleva questo voleva essere appunto proprio un blockbuster di puro intrattenimento in quell'ottica riesce perfettamente con degli scontri spettacolari e veramente veramente appaganti che secondo me riescono a bypassare tutte le debolezze della sceneggiatura però attenzione questo non va preso come un allora scrivete pure sceneggiature di merda tanto non ce ne frega niente se lo spettacolo è fatto bene perché io qui col fatto che era comunque lo sconto era l'evento crossover col fatto che lo aspettassimo da tanto eccetera ci posso passare sopra ma visto che ora sembra che il monster verse continuerà visto che questo film sta avendo successo attenzione perché comunque questo film butta le ortiche alcuni spunti del film precedente ma ne introduce altri che comunque sono interessanti anche quelli se poi il prossimo film mi rifai sta boiata di buttare agli ortiche gli spunti allora io lì comincio a incazzarmi quindi attenzione non agiatevi sugli allori qui ve la perdono vi è andata bene ok ma che non diventi un'abitudine perché una volta ok ma perseverare si è iniziata perseverare su sta cosa io comincio veramente a storcere il naso parlando invece della trattazione dei monster inteso proprio come i due personaggi che compaiono nel titolo del film il trailer avevano fatto nascere la polemica e ma c'è quasi sempre kong questo sarà più film di kong che di godzilla pipira pipera e lasciatemelo dire ragazzi posso finalmente dire che sì effettivamente è così io l'ho riconvinto magari ci stanno fregando per l'altra film è più equilibrato no è un film non totalmente kong centrico ma è un rapporto di 65 kong 35 godzilla forse anche qualcosa di più kong e non sto parlando solo di screen time ma è comunque kong ad affrontare una sorta di percorso mentre godzilla è sì questa sorta di secondo contendente in campo di antagonista quanto volontario o meno lo scopriremo nel corso del film appunto se è stato provocato se è diventato semplicemente stronzo di default però effettivamente kong è molto più seguito i team kong qui saranno abbastanza soddisfatti comunque se siete team godzilla state tranquilli pur con uno screen time più limitato rispetto all'avversario anche godzilla sa regalare soddisfazioni giusto per citare una cosa io adoro tutte le volte che emerge dall'acqua e si vedono le scaglie l'avevamo già visto nei film precedenti ma qui con la questione appunto dell'ottovolante che sembra veramente che la macchina da presa sia montata sulle scaglie di godzilla e quindi noi seguiamo il percorso delle scaglie che sono sopra il mare io ero lì vai bellissimo bellissimo veramente spettacolare è comunque abbastanza palese mi avviso che adan wingard preferisca kong a godzilla non è caso pare che ora sia in trattative per dirigere il prossimo film del monster se quindi per una volta un regista tornerà in un capitolo in un secondo in un altro capitolo della saga e guarda caso il film dovrebbe essere son of kong quindi un film incentrato su appunto sulla figura dello scimmione e per chi pensi oh mio dio son of kong quindi hanno spoilerato no non hanno spoilerato niente perché son of kong può lasciare intendere o che kong ancora vivo e troverà un figlio lo adotterà oppure effettivamente che kong è morto e ci sarà il figlio a prendere il suo posto però effettivamente possono essere entrambe le cose quindi il fatto che si sappia già che il prossimo film sarà son of kong per me non è uno spoiler di questo film e lo pensavo ancora prima di vederlo bisogna comunque dargliene atto come ho detto prima il regista cerca comunque anche di dare dignità a godzilla pur dandogli meno screen time quindi comunque cioè si nota la preferenza ma in una maniera secondo me non eccessivamente fastidiosa e se lo dico io che sono team godzilla dichiarato direi che insomma può può andar bene dai anzi il fatto che comunque io pur essendo team godzilla si è riuscito molto a empatizzare con kong in questo film vuole anche dire che il regista comunque è bravo riesce effettivamente nel suo intento l'intento di adam wingard era divertire lo spettatore mostrare sequenze spettacolari da vedere al cinema io questo film ho bisogno di rivederlo al cinema per questo quindi è un film che pur difettato io ho adorato scusate la rima e già lo dico perché secondo me questa domanda uscirà fuori poi nel nei commenti no non lo metterò nella flop come feci con godzilla 2 sebbene solo in menzione speciale in quel caso ma non finirà neanche nella mia top perché per quanto io possa durarlo a livello personale i difetti di sceneggiatura sono lì da vedere e non bastano a farmi di bastano a farmi dire bel film bastano a farmi adorare a livello soggettivo ma non a farmi dire tra i migliori film dell'anno cosa che ho già letto da alcune parti no secondo me non lo è assolutamente parlando della colonna sonora io gli avevo un po paura perché a me non era piaciuta granché la scelta musicale messa nel trailer di quella canzone io io here we go io io sono una musica la festin furios e che cacchio era quella roba lì e temevo che avrebbero fatto qualche casino anche nel film e diciamo che quelle due o tre volte in cui tira fuori effettivamente delle canzoni come commento musicale non mi fa impazzire lo fanno sempre nei momenti di calma mai nelle scene concitate perché appunto vogliono fare delle canzoni che ti trasmetterò calma ma boh non le ho trovate molto in linea col fatto che stiamo parlando di mostri giganti mi hanno fatto un po' stracciare il naso se parliamo però di colonna sonora in sé composta da junkie xl allora non è minimamente memorabile me la sono dimenticata dopo un minuto che era finito il film però durante la visione è ottima nel senso è un gran bel accompagnamento non è magari un brano che ascolti resti separato dal film perché ha valore di suo però io con quella colonna sonora lì per quanto banale per nulla originale io l'ho lì trasportato all'interno dell'azione quindi è una colonna sonora che fa il suo dovere pur senza avere chissà quale velleità artistiche velleità artistiche io l'ho veramente trovata per quello che doveva fare un'ottima colonna sonora anche se appunto in sé per sé come brano a parte non è nulla di che detto questo chiudo qui la parte senza spoiler e vi rinnovo ovviamente l'invito a partecipare anche solo in veste di pubblico alla mia live di test di kaiju e vi invito a supportare il film e a guardarlo come ho già detto nelle mie impressioni a caldo se voi dite non lo voglio vedere in digitale come protesta per il fatto che non vada al cinema non funzionerebbe perché appunto la one and boss penserebbe sono solo interessati a vedere un digitale figuriamoci al cinema ha molto più senso dire l'ho visto in digitale però ve lo vado a vedere pure al cinema potendo questo ha molto più senso perché appunto fa dire alla warner dai che vi conviene su anche se l'abbiamo già visto vi conviene comunque mandarlo al cinema fatelo maledetti maledetti comunque vabbè staremo a vedere incrociamo tutte le dita possibili detto questo appunto chiudo qui la parte senza spoiler saluto chi ha visto il video fino a qui e non vuole farsi spoiler e vi dico proprio andate via subito perché la prima cosa che dirò sarà come si conclude lo scontro e se wingard abbia mantenuto o meno la promessa che fece prima che uscisse il film ovvero che ci sarebbe stato un vincitore e non sarebbe finita in parità sarà vero una trovata la marvel lo scoprirete tra pochissimo quindi ciao a tutti coloro che ancora non hanno visto il film mentre invece per chi l'ha già visto o se ne frega degli spoiler 5 4 3 2 1 chi non vuole sapere il resito dello scontro se ne vada adesso mai più spoiler ok sperando che chiunque non abbia visto il film se ne sia effettivamente andato e quindi non si stia per rovinare la sorpresa io qui lo dico adam wingard ha mantenuto la promessa c'è stato effettivamente un vincitore nella battaglia tra i due poi a un certo punto è arrivata la minaccia comune che li ha costretti a unirsi ma in sé per sé lo scontro ha avuto un vincitore e signore e signori è stato godzilla il team godzilla vince vince vai 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 e questo tra l'altro ha tutta al di là dell'esaltazione dal stadio se ci pensate bene apre tutta una serie di questioni perché numero uno godzilla come ha già detto andrissima 98 si prende una rivincita dopo essere stato battuto da kong nel film godzilla contro king kong del 1962 perché che che ne pensino in molti quella leggenda per cui in quel film godzilla vince nella versione giapponese e poi nella versione americana hanno fatto un altro finale è falsa in entrambi i casi entrambi cascano in acqua e kong emerge dall'acqua e comincia a nuotare per tornare nella sua isola cosa che lo rende di fatto vincitore ora nella versione giapponese si sente anche il rugito di godzilla in sottofondo che lascia intendere che il lucertolone sia ancora vivo e quindi c'è chi dice no quindi in realtà è un pareggio ok però a livello scenico se due cascano in acqua e uno emerge quello lì è il vincitore quindi mi dispiace ma in quel film lì aveva vinto king kong non a caso in italiano il film si chiamava il trionfo di king kong e un motivo c'era tra prendesi spoiler alert in secondo luogo ciò vuol dire che nel film giapponese ha vinto il mostro americano nel film americano ha vinto il mostro giapponese uno switch che io trovo meraviglioso soprattutto perché sempre nel film del 62 godzilla veniva risvegliato dalla propria ibernazione da un sottomarino americano mentre invece kong veniva portato via dalla sua isola da dei giapponesi quindi anche in quel caso c'era appunto lo switch quindi in questo senso a distanza di 60 e passa anni anzi no di quasi 60 anni 59 anni fa il il chiasmo tra le due creature continua ad essere continua a ripetersi sotto varie forme è inoltre bello come wingard pur essendo palesemente team kong riconosca comunque che qui godzilla effettivamente deve vincere e questa cosa è una prova di umiltà e bravo wingard e in ultimo ma non meno importante anzi per me questa forza la cosa più importante un salutone a tutti quelli che me l'hanno menata l'hanno menata fino al tollone o a me direttamente o comunque su internet vedevo i forum o vari video eccetera con tutti che friniavano è ovvio che kong vincerà è un film americano gli americani sono dei figli di beep quindi non faranno mai vincere un mostro giapponese americani cattivi ora gli americani sicuramente hanno molti difetti ci mancherebbe altro non che gli italiani siamo perfetti però insomma gli americani sicuramente non sono dei santi per carità però veramente dare questa cosa così per scontato a me faceva venire un po' il nervoso per non parlare poi di tutti quei team godzilla che proprio rendevano onora la categoria che la menavano con quel cazzo di meme insopportabile in cui si vedevano una foto del godzilla del 54 e una foto del king kong del 33 e sotto i motivi per cui godzilla è ovvio che vince contro king kong ma brutte teste di cavolo ma vi pare il caso di dire perché in questo film doveva vincere godzilla usando delle versioni del 54 del 33 non sono le stesse versioni siamo nel periodo in cui tutti la menano fino allo sfinimento e il canone non il canone multiverso questo è successo di lì e questo è successo di la pipira pipera però a quanto pare per godzilla e kong no del canone il popolo di internet se ne fotte amabilmente e per stabilire chi vincerà tra il godzilla del monsterverse e il king kong del monsterverse che cosa facciamo facciamo il confronto con le prime versioni che col monsterverse a livello di continuità non c'entrano una fava ma posso dire andate un po' a cagare cioè mi dispiace so di essere il fanboy esaltato eccetera però che cavolo io mi sono rotto le balle di sto trattamento del cavolo e questo film ve l'ha messa tutti in culo paradossalmente dandovi ragione perché sì godzilla ha vinto e questo film ha riconosciuto che lui era superiore quindi ora tutti zitti e mutti nell'angolino a non rompere più a riflettere su quelle sulle sulle cazzate che avete spiffo cioè che avete disseminato su internet mi ci voleva mi ci voleva che poi vorrei far notare una cosetta appunto molti sono ancora convinti di sta leggenda per cui nel la godzilla contro con del 62 godzilla in giappone vinca mentre in occidente no quindi se gli giapponesi fanno vincere il loro mostro va bene se lo fanno gli americani sono stronzi ok per carità appunto godzilla quello che ti aspetti che vinca però sinceramente non lo so lo vedo come un atteggiamento un pilinino ipocrita comunque tolto questo sfogo comunque per me doveroso iniziamo a parlare un po' di tutte le cacatelle di cui la sceneggiatura è impregnata magari anche più che qualche cacatella innanzitutto la questione che dicevo di spunti del film precedente qui mandati un po' all'ortiche per l'appunto tutti i titani a parte godzilla sembrano spariti dalla superficie nei titoli di testa molto belli tra l'altro molto simili a quelli del godzilla di edwards vediamo vari filmati che tra l'altro alcuni mi vengono a chiedere ma quando li hanno filmate quelle cose comunque vediamo godzilla che ha fatto fa fuori muto fa fuori ghidora e viene fuori sempre defeated defeated e a un certo punto si vedono immagini di rodan metussela bimoth e i vari altri titani e tutti e anche lì defeated 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 e tu sei lì come li ha ammazzati tutti ora è successo tutti i personaggi schioppati fuori scena in realtà da quel che ho capito mi è stato detto nei fumetti prequel di godzilla versus kong c'è appunto quello che ho detto io nella parte senza spoiler godzilla ha mandato a nanna tutti i titani quindi l'altra titani defeated vuol dire morti nel caso di ghidora e i muto del primo film ma può volere anche vero dire semplicemente sconfitti quindi insomma resi inoffensivi perché appunto andati tutti a dormire che se da un lato questo garantisce che il fulcro siano totalmente godzilla e kong dall'altro lato dici ma come il monster avessera lì lì sul punto di rispandersi e me lo riaccorci improvvisamente questa cosa mi suona un po male con poi appunto la monaca che come dicevo ha completamente perso il proprio ruolo predominante con appunto il signor russell che era quello che doveva proteggere godzilla raccogliendo l'identità di serizawa e qui invece è uno oh no godzilla sta facendo casino ora cosa faccio non so cosa fare non so cosa fare minchia ok il grande erede di serizawa parlando di erede di serizawa qui c'è ren serizawa che non viene detto nel film ma però è stato dichiarato che quello è il figlio appunto del nostro caro dottore numero uno quando mai questo qui ha avuto figli io me lo sono sempre immaginato come uno dedito al lavoro che non ha mai avuto tempo per relazioni sentimentali o comunque una famiglia numero due il figlio di serizawa è cattivo e odia i mostri ok ci sta grande colpo di scena apre tutta una serie di questioni interessanti il personaggio avrà sienno a quattro ore di dialogo e muore come un coglione ma mi prendi per il culo c'è un personaggio così importante che poteva contribuire a portare avanti la memoria di serizawa sebbene lui fosse morto paradossalmente contribuiva a tenerlo importante tradendo i suoi ideali e fa questa figura barbina per carità non avendo mai detto che era il figlio ci mettiamo non lo so che era il cugino lo zio è un semplice caso di omonimia ci sarà più di un serizawa qua e là però veramente no no nel senso inventatevi una qualunque stronzata e sganciatevi una strontata lì del fatto che avevano semplicemente lo stesso cognome sganciatelo da serizawa perché non è possibile che l'umano più importante del monsterverse sia correlato anche solo a livello di cognome ad uno dei più insulsi del monsterverse cioè questa cosa mi manda mi manda ai matti posto che vabbè il peggio delle stronzate credo siano riservate al complottista che allora innanzitutto lui c'ha questo podcast e in cui dice secondo me la apex nasconde qualcosa e poi dice esplicitamente io lavoro alla apex sono un infiltrato e voglio distruggere dall'interno e la apex non fa mai controlli non sta cercando di capire chi è l'infiltrato tra l'altro lui dichiara di essere infiltrato nell'apex non nasconde la voce non la camuffa né niente ma siamo scemi ma siamo veramente scemi anche perché poi lo vediamo a un certo punto che rompe i coglioni a un collega per per far sì che lui se ne vada infastidito e hackerare cose dal suo computer eccetera quindi insomma sembra anche furbo in certi casi quindi fa il coglione apposta però poi appunto svela le proprie carte alla radio e millie bobby brown lo trova con una facilità estrema colui che è chiuso in un mucca dicendo ah no qui non mi trova nessuno ma che coglione se vai in giro a dire che qui sei tu cioè è una tale stronzata insensata che poi diventa anche peggio quando lui madison e il nerd stereotipato si infiltrano nella apex e non c'è una minchia di controllo di sicurezza da nessuna parte scusatemi essendo lui un dipendente non si poteva fare una cosa del tipo non lo so lui conduce il podcast senza dire di essere infiltrato nella apex madison che è furba lo trova e magari ci si fa ancora battuta sul fatto che non voglio dire minchia non ho mai trovato nessuno ma invece una ragazzi una semplice due ragazzini ci sono riusciti così appunto continui con la cosa delle nuove generazioni e poi appunto fai che lui essendo infiltrato nella apex ma nessuno l'ha mai beccato magari fai dire vi fai dire io sono sempre stato attento eccetera e si lui ha delle particolari fisse a cui sta attento eccetera ma sono tutte che comiche perché appunto grazie a quelle cose si intrufolano senza problemi perché lui riesce a ingannare la apex eccetera visto anche no che ha che la cosa come dicevo prima e invece no è tutto veramente buttato lì c'è chi lo dice ai film al vero le cose sono buttate lì senza senso non fino a questi livelli film al verano delle ingenuità ma qui veramente i sceneggiatori sono andati veramente sul sembra che sembrava proprio che non gliene fregasse nulla di quello che stavano scrivendo e avessero detto e vabbè tanto ci pensate a wingard a mettere una pezza e ok però sono arrivati a un certo punto poi la questione di skull island scopriamo che skull island è stata annientata da una tempesta il che è coerente per una volta con il finale di godzilla 2 in cui si diceva che c'erano dei terremoti a skull island insomma che qualcosa stava accadendo ok quindi è successo qualcosa farlo vedere in un flashback la butto lì eh cioè a proposito skull island è andata a fanculo bene fallo vedere grazie cioè un pochino importante skull island ha visto che era il sottotitolo del film che ha introdotto kong e invece no ce ne siamo altamente fregati questa cosa non è che mi abbia fatto impazzire che poi ok qui te la buono perché lo spettacolo visivo è stato fantastico però per quanto te la perdoni comunque non è che mi sia piaciuta molto sta cosa in più questo film getta tutta una serie di nuovi spunti per il futuro del monsterverse non è che poi nel film dopo li mandiamo di nuovo a ramengo perché non è che possiamo andare avanti così più di tanto insomma un minimo un minimo di di spunti che poi vengono ripresi con appunto la terra cava che viene resa effettivamente esplicita il fatto che appunto ci siano tutta una serie di gallerie di habitat sotto la terra che praticamente come ha già detto anche il critico davide di giorgio con cui ho avuto l'onore di fare una live sul canale di anni insieme 98 praticamente questo film e viaggio al centro della terra di jules verne rifatto però con i kaiju ed è verissimo ed è appunto le scene sotto la terra cava sono fantastiche i paesaggi sono bellissimi kong che corre selvaggio fa battere il cuore vengono introdotte alcune nuove creature che si vedono poco ma sono molto fighe tipo il il war bat o nozuki come si dovrebbe chiamare che è veramente fighissimo si vedono questi granchiettini delle rocce questa salamandra poi si vedono gli yellow che sono queste questi uccelli con degli ali da pipistrello insomma non si vede tantissimo scalare della più popolata da creature effettivamente però insomma gettano qualche spunto c'è questa misteriosa energia che comunque che un sassolino così può illuminare mille las vegas ci sono queste rocce volanti per via della gravità qualcuno qui ha visto avatar gli è piaciuto giustamente c'è poi soprattutto questo tempio in cui kong entra cioè chi l'ha costruito quel tempio la razza di kong quindi la razza di kong era civilizzata c'è persino l'accia che sarà in fili nel pertugio giusto attiva tipo l'energia quindi insomma c'era una società c'era una civiltà avanzata e appunto erano la specie di kong c'era una civiltà di qualche altra creatura altre creature civili di cui la specie di kong era amica e magari è per questo che in superficie su skal island proteggevano gli indigeni perché gli indigeni ricordavano loro quella civiltà o addirittura gli indigeni di skal island forse sono gli ultimi discendenti di quella civiltà un sacco di spunti che se me li ignorano di nuovo nel prossimo film io comincio veramente a incavolarmi però ragazzi ripeto qui per ora ve la do buona ma ve la siete giocata una volta non potete rifarla più sta roba altra cosa che non ha granché senso kong ha imparato la lingua dei segni presumibilmente dalla bambina da gia appunto e nessuno se n'è accorto ce lo stavano studiando lì da non so quanti anni nessuno si è mai accorto che faceva la lingua dei segni soprattutto il personaggio interpretato da rebecca hall che sta crescendo la piccola come una figlia non si accorta che kong non si è mai accorta che cosa stava facendo segni che lei conosce perché sai magari uno che non conosce la lingua dei segni vede kong fare così e non sa che vuol dire casa a me non mi pare fosse così casa comunque eventualmente correggetemi e ok però sul serio lei non se n'è mai accorta per carità il tutto viene compensato dal fatto che la scena è bellissima c'è rebecca hall che fa questa faccia di sense of wonder che è meravigliosa c'è sotto la musica che è efficacissima e c'è appunto la ripresa di kong che è molto bella e quindi la scena è costruita in una maniera abbastanza figa da farti dire ok una stronzata di livello di sceneggiatura ma chi se ne frega altra cosa che per me non ha molto senso è il modo in cui i due fanno pace nel senso esce fuori meca gozilla comincia a menare gozilla come se non ci fosse un domani e appunto la piccola dice a kong gozilla non è il nemico il nemico è quell'altro ora ci sta che kong essendo molto affezionato alla piccola gli basti la parola di lei per dire ok allora aiuto gozilla questo è coerente con il film e ci sta perché il rapporto tra i due è stato ben costruito con delle scene molto tenere soprattutto quella di nella piccola che tocca il ditone di kong sotto la pioggia quella è veramente poetica e conferma quello che dicevo del monsterverse ovvero questa tendenza non solo a cercare la creatura mostruosa ma anche a volerla toccare madison che toccava la larva di motra il personaggio di brilarson che toccava kong in scale island serizawa che prima di morire tocca il muso di gozilla insomma c'è sempre questa idea del devo toccare il mostro e comunque insomma grazie a queste scene io posso bermi che kong cambi idea da così a così tipo gocciole pavesi su gozilla ma di preciso cosa ha fatto cambiare idea alla piccola perché lei ha sempre visto gozilla come il nemico di kong che l'ha pestato quasi a morte anzi lo stava uccidendo se non l'avessero riattivato con l'esplosione lì del reattore energetico della capsula quindi per cos'è che la convince che cioè perché nel senso in teoria mecca gozilla è quello che sta menando gozilla lei non sa bene che è cattivo mi pare almeno mi è sembrato così poi dovrò rivedere il film per per controllare sta cosa però insomma non mi sembra una cosa molto molto sensata mi piace invece come quando lei gli dice su consiglio degli adulti se entri nella terracava forse trovi qualcuno della tua famiglia e con che aveva qualche dubbio ci si fionda come niente perché appunto c'è questa idea che kong è enorme potente eccetera ma è comunque solo e cerca un legame di appartenenza con qualcuno e per quanto gia possa essere tanto dolce brava e cara insomma un minimo di contatti con la propria specie se la puoi avere è sicuramente ben voluta e tra l'altro qui kong se ci pensate bene ha un percorso molto simile a quello che avevo che ha avuto gozilla in king of the monsters perché pensateci gozilla in king of the monsters appunto si scontra con ghidora e le prende si scontra una seconda volta e le prende di nuovo in realtà in quel caso le stava anche vincendo ma l'oxygen destroy l'ha quasi ucciso e ok sta per morire gli umani lo trovano degli umani lo trovano e lo rivitalizzano va a menare il boss finale e alla fine lo uccide e diventa una so e diventa un re che ha il re dei mostri kong invece le prende la gozilla la prima volta sulle portaerei tra l'altro altra incoerenza di sceneggiatura dobbiamo usare le bombe di profondità per stordire gozilla in maniera tale che lasci kong andare prima che anneghi ok ma come mai kong non è stordito dalle bombe a sua volta questa cosa per me non ha molto senso vabbè a parte quello quindi kong le prende la prima volta le prende la seconda volta e a momenti schiatta viene rivitalizzato appunto con quell'esplosione della capsula che è una specie di mega defibrillatore si rianima e ok in quel caso non va a menare gozilla ma mena il boss finale cioè mecha gozilla e tra l'altro gozilla vinceva contro ghidora perché aiutato dal sacrificio di motra qui kong riesce a distruggere mecha gozilla perché il vero gozilla gli carica col fiato atomico la placca dell'ascia e quindi quella con quell'ascia che prima non riusciva a ferire mecha gozilla adesso lo affetta con una facilità estrema tra l'altro crudelissimo proprio cioè lo prende gli affetta le braccia la coda la gamba la testa proprio loro riduce affette in una maniera assurda crudel cruentissimo e e alla fine vediamo kong che ruggisce di trionfo perché è diventato praticamente il re della terra cava che è un po la sua nuova scala island quindi ora ci sono effettivamente due re due alfa uno in su uno che controlla la superficie cioè gozilla e uno che controlla il sottomondo chiamiamolo così la terra cava che è appunto kong e a questo punto io pretendo che in futuro ci sia una nuova minaccia comune che costringa non solo gozilla e kong ad unirsi ma che essi si portino dietro dei mostri alleati che hanno uno in superficie uno appunto sulla terra cava e quindi giù le armate contro l'armata del nemico qualcuno lo faccia vi prego magari non fi chiamato destroy all monsters la butto lì eh ma signori adesso veniamo alla ciccia i combattimenti allora primo combattimento sulle porta aerei tra l'altro porta aerei che riescono a tenere su mostri di migliaia di tonnellate come lo spiegano e non lo spiegano in questo film c'è una mega tecnologia incredibilmente avanzata come hanno giustamente detto alcuni dovremmo essere nel 2024 sembra di stare nel 3000 a livello tecnologico un salto che non ci si riesce a spiegare oltretutto ma adesso il mondo dopo l'arrivo dei titani non dovrebbe avere zone con foreste ricresciute o robe del genere super cibo per via dell'arrivo dei titani di questa cosa non ne parla più nessuno ok però la tecnologia ha fatto un mega balzone avanti va bene cioè far vedere un minimo anche lì no la costruzione di mega gozilla perché così veramente abbiamo creato il robotone gigante come è così perché siamo l'apex abbiamo i soldi ok crediamoci comunque combattimento appunto sulle porta aerei con kong che come in un platform deve saltare da una piattaforma all'altra cioè da una porta aerei all'altra perché se no gozilla lo becca diciamoci nel primo combattimento gozilla avvantaggiato perché lui viene fuori dall'acqua una creatura che si muove agilmente in acqua e infatti lì kong veramente veramente la rischia grossa e tra e comunque uno può dire vabbè però non vale non erano a darmi pari il secondo scontro invece a hong kong e lì sono veramente a darmi pari perché non solo sono entrambi a terra quindi gozilla non può sfruttare il il vantaggio dell'acqua ma soprattutto kong adesso all'ascia ha un'arma con cui poter tenere testa gozilla un'arma che addirittura è palesemente un osso tra l'altro lui la tira fuori dal cranio di un gozilla morto quindi insomma c'è stata veramente una guerra tra le due razze a un certo punto ma a parte questo dicevo kong ha quest'ascia che assorbe le radiazioni dell'alito atomico di godzilla che qui torna a essere più simile a una fiammata come nel film di edwards e sinceramente lo preferisco di più come appare in in questo film e quindi i due cominciano a scazzottarsi malissimo kong ce la mette davvero tutta come dice il personaggio di rebecca hall kong non si piega a nessuno ma alla fine deve capitolare gozilla veramente lo prende lo malmena lo graffia lo calpesta gli rugisce addosso come a dire sta ora smettila e sottomettiti ma kong gli rugisce di risposta come a dire col cazzo proprio e niente gozilla proprio lo stende con una vittoria veramente schiacciante in tutti i sensi visto che appunto lo schiaccia quindi grande gozilla unico vero re sempre detto e questo mi dà ulteriormente ragione e tra lasciando la spettacolarità dello scontro kong a un certo punto infila la parte il manico dell'ascia in bocca a gozilla scimmiottando termine un po stupido in effetti comunque richiamando alla scena di del film del 62 in cui il kong di quel film ficcava un un ramo in bocca un albero in bocca a gozilla qui con l'ascia ha effettivamente più senso anche se adesso devo capire bene chi l'ha costruita appunto la razza di kong che ha costruito il tempio e tutto che ha preso un osso e ci ha infilato dentro la scaglia di gozilla ok che tra l'altro lo scontro inizia perché gozilla si accorre sente la presenza di kong sottoterra e con un'alitata riesce a scavare un tunnel che bucca la crosta e anche il mantello della terra fino ad arrivare alla terra cava va bene che gozilla è super potente l'ho sempre detto però minchia qui veramente livello over power over non over nine thousand over nine million sinceramente comunque vabbè è comunque una scena figa è quello che dico sempre no è vero non ha molto senso ma qui è una scena figa quindi per questo film ce la facciamo andare bene per questo film poi cerchiamo di aggiustare il tiro per i prossimi grazie comunque poi arriva mecca gozilla con un design che non so neanche io come definire non mi dispiace però diciamo che dei mostri meccanici a me sempre fregato fino a un certo punto quindi sinceramente se c'era un design di cui non me ne fregava granché era proprio quello di di mecca gozilla però comunque dai rende bene gli effetti sono fighi quindi ok comunque la cosa che mi piace davvero di questo mecca gozilla vabbè oltre al fatto che è stato appunto ricavato cioè nel senso i suoi percorsi neurali sono stati ripresi da da un teschio di ghidora che lasciatemelo dire cari membri della apex siete proprio stupidi e come se non lo so qualcuno per creare dei transformers creati dagli umani usasse gli impulsi cerebrali di megatron non mi sembra una grande idea oh cazzo si sono ispirati a quello no vabbè comunque cioè diciamo il problema in entrambi i casi non è tanto che abbiano fatto una cosa stupida perché ci sta sono i cattivi e sono stupidi ma dirlo un po meglio che sono stupidi insomma non ci sarebbe stato male comunque questo tra l'altro può anche essere visto come un rimando a kiryu l'incarnazione di mecca gozilla dell'era millennium che era stato praticamente costruito sopra lo scheletro del primo gozilla in questo caso abbiamo un mecca gozilla con gli impulsi cerebrali di un altro mostro morto ovvero ghidora infatti appena mecca gozilla si attiva per bene grazie alla nuova fonte di energia eccolo che si ribella e fa un un macello qui tra l'altro c'è un'altra delle cose stupide ovvero la scena del whisky ora per me non è stupido tanto che si c'è il computer che controlla mecca gozilla venga messo fuori uso da del whisky anzi ci sta è proprio l'idea della grande potenza della tecnologia umana che va a quel paese per del cacchio di whisky come a dire possiamo costruire tutte le cose che vogliamo poi basta un non nulla per mandarci a ramengo e l'ho già detto in un altro video lo stiamo vedendo in questo periodo siamo tanto evoluti tecnologicamente ma è bastato un virus o c'è un qualcosa di talmente infinitesimale che è impossibile vedere l'occhio nudo e siamo finiti veramente nella cacca quindi ha assolutamente senso non ha senso per me il fatto che colpendo quel computer in qualche modo si disattivi la coda di mecca gozilla però per il resto lui è lì tranquillo c'è un contest non lo so posso andare un attimo in stand by perché non aveva più i controlli poi fosse riuscito ad acquisire autocontrollo in pochi secondi e quindi via però non lo so insomma una dinamica veramente assurda e confusa quella che serviva giusto a farti dire gli umani danno una piccola mano ai mostri sebbene poi siano loro a distruggere definitivamente il bestione e qui la coreografia per me è fantastica parazzi che crollano malissimo ogni colpo dato ai mostri si sente ogni colpo che danno loro si sente mecca gozilla sembra veramente invalicabile perché ha mille risorse c'è il lanziarazzi e c'ha la coda trivella c'ha i propulsori sulla schiena c'ha il mega raggio di gozilla rosso tra l'altro gozilla il raggio azzurro che è il buono e mecca gozilla che è il cattivo il razzo rosso qualcuno qui ha visto star wars mi sa e quindi insomma è veramente assurdo ogni volta che uno dei due mostri sembra in procinto di sopraffare il mecca gozilla quello riesce effettivamente ad avere la propria rivincita cioè riesce a scamparla finché gozilla non ha l'intuizione ovvero appunto carica l'ascia di kong e a quel punto kong con l'ascia caricata da gozilla affetta malissimo il robot e ho anche adorato la scena finale in cui appunto gozilla si staglia davanti a un kong ormai esausto kong si tira su prende in mano l'ascia sono lì che si guardano e che cosa fa kong butta butta l'ascia di guerra in tutti i sensi e gozilla si gira non c'è allora non sembra che siano realmente diventati amici però è come se avessero sviluppato una sorta di rispetto reciproco come dire ok non non mi stai più sui maroni e tra l'altro io adesso che mi ero rassegnato all'idea che gozilla versus kong sarebbe stato l'ultimo film del monsterverse io ora non sono più rassegnato io ora voglio un seguito perché io voglio vedere quei due che tornano a fare un team up magari per tutto il film con molta più collaborazione appunto magari anche un po più di amicizia perché veramente che combo da sogno potrebbero tirare fuori questi due vi prego ne voglio ancora mi avete fatto assaggiare un po di nettare ora ne voglio di più di più e comunque la scena io comunque l'ho adorata con appunto gozilla che se ne torna in mare come suo solito e poi appunto kong lo vediamo alla fine appunto su su scalaila cioè su sulla terra cava rivedremo questi due assieme io ci spero ci spero veramente tanto sarebbe veramente una figata tra l'altro ecco sebbene effettivamente ci sia stato un vincitore a livello proprio di scontro a livello morale sono entrambi vincitori sia perché appunto gozilla ha menato kong ma poi è stato kong seppur con l'aiuto di gozilla a sconfiggere meca gozilla ma comunque alla fine non c'è stato uno dei due che si inchinava all'altro io davo per scontato cioè la mia testa sarebbe stato una cosa un po inversa cioè kong avrebbe effettivamente vinto le mazzate ma poi contro meca gozilla avrebbe vinto gozilla e quindi kong l'avrebbe riconosciuto come re qui la cosa al contrario però alla fine non è che gozilla si inchina kong perché ha ucciso meca gozilla e anche kong coerentemente con quello che hanno detto nel corso del film non si piega a nessuno quindi nessuno dei due si piega all'altro ma appunto raggiungono il livello paritario quindi in quello c'è effettivamente la parità nessuno dei due si è effettivamente inchinato all'altro ma sono comunque riusciti a trovare del rispetto reciproco e questa cosa mi piace e alla vivina paradossalmente è la cosa più matura da entrambi lati si rinuncia alla facile cosa del vi accontentiamo non facendo vincere nessuno invece diciamo no qui un vincitore c'è ma allo stesso tempo ti fanno vedere che al di là delle mazzate comunque non c'è bisogno che uno dei due dica all'altro no tu sei più figo di me questa cosa mi piace mi piace veramente molto quindi hanno gestito questo è un versus veramente veramente ben gestito dal punto di vista al punto del versus poi parlando appunto di narrazione continuità con il monster vs eccetera lì scricchioliamo un po di più ma i pregi mi fanno dire sì ok ci sto figata assoluta è detto questo il video può finire qui grazie per averlo seguito interamente se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate io vi saluto vi salutano anche i due contendenti che ci hanno deliziato con i loro scontri e detto questo beh ci si vede a testa di kaiju e più in generale ci si vede ai prossimi video ciao ciao ragazzi grazie a tutti